Esaltare la figura di Giordano Bruno valorizzando i luoghi della sua terra attraverso una serie di iniziative di carattere culturale e di spettacolo. E' questo l'obiettivo del progetto Certame Internazionale Bruniano, promosso dal Comune di Nola e cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 nell'ambito del programma Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura, programma regionale di eventi ed iniziative promozionali. Gli eventi si terranno fino al 29 dicembre a Nola, la terra, che ha dato i Natali al filosofo arso vivo in Campo dei Fiori a Roma il 17 febbraio del 1600. Eventi che faranno da cornice alla cerimonia di premiazione delle tesi di laurea magistrali e dottorato discusse dagli studenti degli Atene d'Italia dal 2017 ad oggi. In programma anche tre conferenze specifiche sul pensiero bruniano, curate dal professor Michele Ciliberto e dagli studiosi Marta Bertolaso e dal professore Massimo Adinolfi. Accanto al concorso una serie di eventi con spettacoli teatrali e musicali, tra cui il concerto del cantautore Eugenio Bennato. Alla presentazione degli eventi hanno partecipato l'assessore alla cultura del comune di Nola, Ferdinando Giampietro, il consigliere comunale Vincenzo Iovino e il sindaco Gaetano Minieri. Avremo un programma ricco di eventi, di spettacoli, teatro, musica, ma non solo. È stato anche previsto un programma scientifico. Avremo tre conferenze con tre illustri relatori. Si parte il 29 novembre con la professoressa Marta Bertolaso, il 7 con il professor Michele Ciliberto ed infine il 16 con il professor Massimo Adinolfi, che sarà il giorno in cui ci sarà anche la premiazione. Voglio ringraziare l'associazionismo, ma soprattutto anche chi ha collaborato per questo progetto. Questo è solo l'inizio e poi ci saranno ancora altri progetti, perché la figura di Bruno è una figura mondiale, una figura universale. Oltre alla filiera culturale, noi dobbiamo anche creare quella filiera turistica che possa dare respiro ai territori. Quindi la valorizzazione che insieme al Presidente De Luca stiamo facendo per valorizzare i nostri territori, l'entroterra, quindi crearci non come alternativa ma come accompagnamento alla filiera della costiera. Quindi noi dobbiamo sfruttare tutte le nostre peculiarità che vanno dal turismo gastronomico, al turismo archeologico, al turismo culturale, al turismo folcloristico, la nostra anche festa di gigli che patrimoni in maniera dell'umanità.